Emergenza coronavirus, altri quattro decessi nelle ultime ore, 68 e nuovi positivi. Il 27 dicembre intanto in Basilicata le prime 105 vaccinazioni. L'impatto della pandemia sull'economia sulla società lucana è stato devastante quanto emerso dal dossier della Caritas di Basilicata presentato a Matera. Gli ex vertici dell'Asi non hanno utilizzato i soldi del consorzio per finalità private o personali. Queste le motivazioni che hanno portato la Cassazione ad assolvere gli otto imputati dall'accusa di peculato. Un messaggio di speranza e solidarietà arriva a potenza dall'iniziativa di Basilicata in azione che nella sede Caritas ha consegnato facchi alimentari per aiutare i bisognosi. Infine parleremo di volle in Serie A2 e nuova sconfitta per la rinascita al Lago Negro. Troppo forte la capolista Bergamo per i valnocini che restano sul fondo della classifica. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv. C'è sempre l'emergenza coronavirus in primo piano nel nostro Tg e lo sentivate dai titoli. Ci sono altre quattro vittime. 68 invece i nuovi positivi il 27 dicembre. Intanto in Basilicata le prime 105 vaccinazioni. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Due decessi al San Carlo, uno al Donuva, uno anche a Matera. Nella provincia di Potenza a piangere sono le comunità di Castelgrande, Lavello e Abriola. Un 83enne nel comune d'Auno mentre l'85enne che risiedeva nel comune del Marmoplatano era ricoverato da quasi un mese. Il 70enne abriolano è deceduto invece nella struttura gestita da Universo Salute dove era curato da anni per altre patologie. In calo ancora la curva mentre crescono fino a 1587 i tamponi processati. 68 i casi scoperti tra i lucani. 96 invece i guariti e dato dei positivi attuali che si riduce a 5756. Tra i negativizzati anche il sindaco di Marsicovetere Zipparri. 12 casi a Potenza. Un solo caso a Matera dove però sono guarite 19 persone. 11 casi pure a Lavello. Proseguono di pari passo le campagne screening. Scuole chiuse in anticipo a Baraggiano dove un insegnante ha contratto il virus e due bambini sono stati trovati positivi al test antigenico. Ordinanza simile a quella adottata nelle ore scorse a Pisticci dove però in mattinata sono risultati negativi tutti i test rapidi antigenici effettuati sugli alunni e sui docenti dell'Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina entrati in contatto con il docente positivo a Covid-19. A Vietri utilizzando i tamponi rapidi acquistati dal comune e dando priorità a chi è rientrato negli ultimi giorni sono stati esaminati 77 cittadini. Tutti negativi gli esiti mentre a rotonda in 100 hanno prenotato l'antigenico rapido. Intanto saranno 105 i primi vaccini anti-Covid da somministrare in Basilicata. Domenica prossima giornata simbolica scelta dall'Unione Europea per l'avvio della campagna vaccinale. L'annuncio è arrivato ieri a margine dell'incontro tenutosi nel primo pomeriggio in Regione. Il siero Pfizer-BioNTech sarà somministrato al personale sanitario più anziano dell'ospedale San Carlo di Potenza in servizio nei reparti considerati a maggior rischio contagio, ovvero pronto soccorso, pneumologia, malattie infettive e terapia intensiva. Mentre a gennaio toccherà i presidi di Matera e Policoro, sempre su base volontaria. La campagna vaccinale dovrebbe entrare nel vivo nel primo trimestre 2021, rivolta oltre che al personale sanitario, anche agli ospiti e ai lavoratori delle residenze sanitarie per anziani. Dopo 21 giorni ci sarà la somministrazione della dose di richiamo. L'impatto della pandemia sull'economia e sulla società lucana è stato devastante quanto emerso dal dossier della Caritas di Basilicata presentato ieri a Matera. Ce ne parla Mara Risola. Famiglie sempre più povere, soprattutto tra la classe media. L'impatto dell'epidemia da coronavirus sui singoli territori della Basilicata è stato devastante. E quanto riportato nel dossier sulla vulnerabilità alla povertà in Basilicata, preparato dalla Caritas, nell'ambito del progetto Zetemat, ricerca e sperimentazione per la crescita della comunità. Alla base del report, un lavoro basato su un test somministrato in tutte e sei le diocesi, sul numero campione di 100 persone per diocesi, allo scopo di accertare la propensione a diventare poveri in futuro e quindi a individuare quella fascia di popolazione che rischia maggiormente in casi di eventi avversi. Dal punto di vista delle famiglie in Basilicata, gli indicatori di povertà sono decisamente più elevati rispetto a quelli nazionali. L'incidenza della povertà relativa familiare è pari al 17,9% contro l'11,8% nazionale. L'incidenza della povertà relativa individuale, invece, è pari al 19% rispetto al 15% del totale Italia. Dalle 600 schede raccolte è emerso il profilo delle persone che hanno fatto ricorso ai servizi della Caritas. Il 55,5% sono donne, il 20% persone straniere e il 28% non ha concluso il ciclo della scuola dell'obbligo. In ognuna delle realtà diocesane è scritto «Il precariato economico, l'assenza di un lavoro è un fattore determinante». Tour Operator e titolari lucani delle agenzie di viaggio hanno scritto alla Premier Conte un comparto che rischia di scomparire sotto il peso di una crisi unica nella storia, considerando i lunghi mesi di inattività partendo da marzo e dove, fatti salvi un paio di mesi estivi, molti hanno visto calare drasticamente il proprio fatturato. Nel quadro generale di contributi, fondi e ristori stanziati per i settori più fortemente colpiti dalla crisi economica, l'amarezza e la delusione degli agenti di viaggio e dei tour operator cresce sempre di più nella consapevolezza di continuare a vedere scomparire i propri codici a teco dai decreti legge che regolano lo stanziamento di fondi a supporto di un settore che incide con il 13,2% del PIL nazionale ma che continua ad essere ristorato in maniera differente dal resto del comparto. La richiesta da parte delle agenzie viaggio e tour operator è quella di poter rientrare ed essere riconosciuti nei prossimi decreti di storie con il proprio codice a teco per avere la possibilità di godere di contributi a fondo perduto addirittura del 200% tramite accredito diretto da parte dell'agenzia delle entrate. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Gli ex vertici dell'Asi non hanno utilizzato i soldi del consorzio per finalità private o personali. Queste sono le motivazioni che hanno portato la Cassazione ad assolvere gli otto imputati dall'accusa di peculato. Sentiamo Celestino Benedetto. È da escludere che gli atti di disposizione delle somme del consorzio per lo sviluppo industriale siano stati destinati al soddisfacimento di una finalità di natura privatistica e non istituzionale. E' questo il passaggio fondamentale delle motivazioni con cui la Cassazione lo scorso 30 settembre ha annullato perché il fatto non sussiste le condanne nei confronti degli ex vertici del consorzio Asi di Potenza. I giudici della Suprema Corte tre mesi fa avevano assolto definitivamente sia l'ex presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio Industriale Mario Vasta, condannato in primo grado a quattro anni e in appello a tre anni e sei mesi, l'ex vice presidente del CDA ed ex consigliere regionale Paolo Galante, i componenti del CDA Donato Scavone, Angelo Ruggero e Rocco Sarli, l'ex presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rocco Tramutola e gli altri due componenti dello stesso organo Pompeo Pietro Pisani e Gerardo Graziano. Il giudizio della Cassazione si è basato sull'unico capo di imputazione rimasto in piedi, ovvero il presunto episodio di peculato per il pagamento di spese legali per il ricorso al TAR contro i provvedimenti attraverso i quali la regione Basilicata aveva disposto lo scioglimento degli organi consortili ad eccezione del Collegio dei Revisori, episodio che per la Cassazione non può connotarsi come atto appropriativo di fondi dell'ente per finalità non istituzionali. Per le altre imputazioni invece la Cassazione ha evidenziato di non poter entrare nel merito dei capi di imputazione già coperti dalla prescrizione accertata nei precedenti gradi di giudizio. E siamo alla cronaca attimi di paura in via 20 Settembre a Potenza dove questa mattina intorno alle 3.30 una Smart ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento le fiamme. Hanno coinvolto anche una Lancia Y parcheggiata in prossimità. Spente le due autovetture si è provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti anche in contrada Valle dell'Olmo a ruoti per l'incendio di un deposito. Il rogo è stato notato da un vigile del fuoco libero dal servizio che in attesa dell'arrivo dei colleghi ha recuperato l'attrezzatura depositata all'interno del capannone e ha avvisato i proprietari residenti a circa 200 metri dal capannone. Seguiranno accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. C'è un modo per dare forma all'immagine della tua casa. Da Sansone trovi le cucine più funzionali, classiche e moderne, i salotti più comodi, le camere da letto più confortevoli. 1500 metri quadri di esposizione con arredamento per la casa, per il bagno, per negozi e uffici. Progettazioni su misura con trasporto e montaggio gratuiti. Sansone, zona industriale Garaguso Scalo, uscita basentana Grassano Garaguso. Esperienza olimpica Innovazione e stile Piscine Castiglione dal 1961 Eccellenza italiana Rivolgiti al nostro concessionario ufficiale Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero Dal 1992 risolviamo i tuoi problemi nel campo edile Affidati a noi per il Superbonus al 110% con sopralluogo gratuito Ed inoltre ristrutturazioni chiave in mano, forniture e pose in opera di infissi in PVC Isolarte Costruzioni di Nicola Ruggiero Via Siena 4 a Potenza Telefono 0971 36 91 8 339 69 44 620 E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg Molte istituzioni scolastiche della Basilicata saranno salvate nella previsione dei prossimi piani di dimensionamento scolastico Un emendamento alla legge di bilancio di fine 2020 sostenuto da tutta la maggioranza Prevede che per l'anno scolastico 2021-2022 alle istituzioni scolastiche autonome Costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità Ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche Non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato Solo al di sotto di questi numeri quindi scatterà la famosa reggenza Al di sopra invece si manterrà l'autonomia Quindi la presenza del Preside, del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi A renderlo noto l'Onorevole Vito De Filippo Capogruppo d'Italia Viva della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati Un messaggio di speranza e solidarietà arriva a Potenza dall'iniziativa di Basilicata in Azione Che nella sede Caritas ha consegnato pacchi alimentari per aiutare i bisognosi Ce ne parla Alessandro Panuccio In un Natale che vede sempre più famiglie lucane in difficoltà per gli effetti della pandemia La politica prova a fare la sua parte E Basilicata in Azione non dimentica chi da otto mesi è impegnato in prima linea Nella sede di Potenza della Caritas, su iniziativa del coordinatore regionale Donato Pessolano Ha consegnato pacchi alimentari per aiutare i bisognosi e augurare buone feste a chi in questo momento Si impegna in prima linea per far fronte alla pandemia Questa sede che è la Caritas dove accoglie tutte le esigenze in questo momento di chi è ultimo E non riesce nemmeno ad arrivare a fine giornata Io ho colto l'occasione per ringraziare in questo momento tutti coloro che sono sempre in prima linea Quindi ringraziando i primi e ricordandoci degli ultimi Diciamo che non ci dobbiamo dimenticare in questo momento di coloro che non ce l'hanno fatta Quindi sono morti, che sono le prime che dobbiamo ricordare Poi diciamo che ricordiamo e apprezziamo il lavoro che fanno tutti I reporter, i giornalisti, le forze dell'ordine che sono rappresentate dai vigili del fuoco questa sera Dagli ordini dei medici, i sanitari tutti, quindi gli infermieri Dobbiamo ricordarci di tutti e dobbiamo ringraziarli perché tutti i giorni mettono Il loro lavoro a disposizione di tutti per la tutela, la salvaguardia Diciamo il messaggio che tutti i giorni danno ed è importante Dobbiamo cercare di essere uniti per raggiungere l'obiettivo finale Quello di uscire da questa situazione è molto brutta All'evento solidale erano presenti tra gli altri Rocco Paternò, presidente dell'ordine dei medici Romeo Panzone, presidente provinciale del comando dei vigili del fuoco Marina Boncristiano della Caritas Lasso Stampa, la presidente dell'ordine degli infermieri Sara Robertucci E il vescovo Monsignor Salvatore Ligorio che ha lanciato un messaggio di speranza Spesso vedo girando da una parte all'altra a volte un po' tristi Ed è comprensibile perché d'altra parte chi di noi non ha un'attenzione nel momento in cui vive Però poi mi fermo all'immagine di un bambino il quale spensierato sorride Si muove con le mani, con le gambe, quasi per dire la vita è la mia E penso che questo è il cammino che dobbiamo compiere Pur camminando in queste tenebre che eventualmente ci creano tristezza e preoccupazione giusta Non perdiamo la speranza che c'è un bambino, il figlio di Dio, che si è fatto carne Per dire non vi lascio soli, sono con voi Venite a me che vi curo le vostre ferite Mi piego di fronte alla tua umanità Vi do soprattutto la gioia di una speranza Di un domani che già nell'oggi Di una fiducia piena di quello che deve essere la vita dell'uomo Una vita permeata dalla vita di Dio Che significa serenità e gioia Auguri per il Santo Natale E siamo al calcio in Serie D Dopo la bella vittoria nel derby col Picerno Che ha regalato il secondo posto in classifica Lavello dimostra di voler fare sul serio Ieri sera il club Dauno ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 99 Alessio Tutti Santi Il giocatore proveniente dal Monopoli va a rinfoltire la rosa degli under A disposizione di Mr. Zeman Il giocatore sarà già disponibile domani per il turno infrasettimanale Passiamo al volley Biancorossa Coach Tubertini deve fare a meno ancora di Turin Per cui la diagonale è Salsi Scuffia Marretta Armenante Spadavecchia Molinare al centro Libero Russo Mr. Graziosi schierano ormai con solidarietà diagonale Finoli Sant'Angelo Terpin e Pierotti Schiacciatori Cargioli e Signorelli al centro D'Amico Libero Primo set molto equilibrato con Bergamo che trova solo una volta il massimo vantaggio di tre punti Ma i lagonegresi sono sempre lì a giocarsela e a trovare il pareggio fino al 20 pari Quando Bergamo ha una marcia in più per chiudere il primo set Secondo parziale con Lago Negro mai in partita Poi nel terzo si ha la sensazione che la cave del sole rientri non solo fisicamente ma anche mentalmente a giocare Ma è un tempo limitato quello di Marretta e compagni Che dopo un parziale equilibrio soccombono agli attacchi dei padroni di casa Che così chiudono la gara in poco più di un'ora Prossimo appuntamento per il Lago Negro è la sfida del 27 dicembre in casa contro il Taranto I Lucani nel palazzetto di Villa d'Agri dovranno provare a dare il tutto per tutto Per portare a casa una vittoria che li faccia staccare dall'ultimo gradino della classifica In chiusura il calcio a 5 Il CMB Matera torna di nuovo in campo in occasione del turno infrasettimanale valido Come dodicesima giornata della Serie A dopo la vittoria cruciale con il Real San Giuseppe Non c'è tempo per rifiatare Biancazzuri questa sera alle 20 I ragazzi di Cocnitti saranno di scena al Pala del Mauro di Avellino Dove faranno visita alla Sandro Abate I ragazzi di Cocnitti provano ad accorciare le distanze dagli Irpini Che precedono i Lucani di 5 punti Ed è tutto per questa edizione Ci rivediamo alle 19 Grazie per la cortese attenzione e buona giornata Grazie per la cortese attenzione e buona giornata Grazie per la cortese attenzione e buona giornata